Ciao ragazzi e ragazze, io non sento niente, buongiornissimo, buongiornissimo caffè, da un remoto luogo in cui ci godiamo un po' questa giornata di serie A, campionati in generale, sono le 11.36, devo ancora entrare nel vivo con così, la vincita del nostro scudetto, guardiamo gli altri, guardiamo da lontano, insomma non ci preoccupa più di tanto, e quindi c'è il mio cane che, vai via, via, vai a giocare, vai a giocare, c'è il mio cane che ha una passione sfrenata per le cacche e quindi si sta cercando di tenerla il più lontano possibile, Al netto di ciò, dicevo, la giornata sta entrando nel vivo ma a noi interessa relativamente, ci interessa fino a un certo punto Ho detto tantissime cose, si sta commentando moltissimo riguardo per esempio all'assenza di commenti da parte degli account ufficiali del Milan Ci sarebbe molto da dire su questo, nel senso che qualcuno dice che sono argomenti da social, qualcuno dice che invece ha senso Ecco, secondo me, niente, non ce la possiamo fare oggi, virgola Ecco, eccola qua, la vedete? La peste? La peste? No, 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 peste! È veramente una peste Dicevo, alla fine della fiera, che cosa penso io di questo? Penso che sia stata una mancanza di stile importantissima, che sia ribadita nelle parole di Pioli Che chiaramente è un tecnico, cioè lo sbando, non ha più il supporto dei suoi e questo è palese Palese che lo sente, in qualche modo è palese che lo voglia far capire Però ne risulta una pessima comunicazione, una pessima comunicazione di una società come il Milan Che di fatto, negli anni, a differenza di altri, e questo non me ne vogliono insomma gli odiatori seriali dei milanisti Ma questo gli va dato atto Non è una società che mancava di stile sotto alcuni aspetti in un certo senso È anche vero che i giocatori hanno mancato di stile Però spesso la società in certi anni, da un punto di vista comunicativo, non è stata per niente la peggiore su piazza italiana Se sapete che cosa intendo dire Quindi è un dispiacere per loro e qualcuno mi dice Ah beh è un dispiacere, dici che è un dispiacere, io non mi dispiacerò mai per i milanisti Però a me dispiace perché la figura che poi facciamo anche all'estero, proprio come movimento, come campionato Non è bella, cioè non è bella per niente Detto questo, si festeggia, cominciamo a tirare le fila della stagione Ci possiamo godere le coppe europee e anche la Coppa Italia Ovviamente mi dispiace, ci toccherà tifare per Gasperini Perché pensare che la Juventus possa vincere una Coppa Non mi sembra assolutamente qualcosa di pensabile Specialmente quest'anno Anche se qualcuno di voi magari fatemi sapere che cosa ne pensate Magari Allegri rimane se vince la Coppa Italia Sarà una grande stagione di cambiamenti Nel senso che il Milan cambierà, probabilmente la Juve cambierà La Lazio probabilmente cambierà Il Napoli cambierà Cioè ci sarà un bailamme di panchine che poi bisognerà vedere anche cosa fa la Fiorentina Cioè un bailamme di panchine è veramente veramente interessante E sapete qual è la cosa più bella? È che io faccio questo video con una... Con una rilassatezza E un relax addosso che è difficile raccontare E qui questa location da cui io ho già fatto un video verso Natale Perché vengo sempre qua Guardate La respirate? Quest'aria pura in alto In alto Meno 14 Vabbè comunque oggi c'è anche Juve Milan La classica partita dove metaforicamente noi ti fiamo bomba Ah ecco un po' di sole E quindi che dire Che dire amici e amiche del barbasso È difficile commentare questa serie A È difficile commentare questa A Vergola Dove vai? Vai 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 È difficile commentare questa... Queste ultime giornate Sapendo che abbiamo vinto Ecco mi auguro di cominciare a vedere un turnover serio Cioè basta Simone fai riposare Fai riposare i giocatori Dai spazi a chi non ha avuto meno Che magari ti viene fuori qualche sorpresa che non ti aspettavi Speriamo vadano in gol quelli che non sono ancora andati in gol E fatemi concludere questo video con un plauso Con un plauso per un calciatore che è stato direi il calciatore decisivo alla fine dei conti In questa... in questa... in quest'ultimo derby Lui che tra l'altro è pure milanista Francesco Acerbi che gioca da qualche mese con la pubalgia Adesso si ferma Probabilmente si rimetterà per gli europei Ma Francesco Acerbi che è difficile commentare altrimenti Fantastico Fantastico Meraviglioso Faccio mea colpa anch'io Che mai pensavo che l'avremmo preso Mai pensavo... Mai pensavo ci sarebbe tornato utile Fantastico ragazzi E tra l'altro... Cioè non si capisce... Ha anche fatto gol Veramente questo fa capire che tipo di gruppo c'è Che tipo di rapporto è riuscito a creare anche Simone Inzaghi con i suoi Fenomenale Bellissima la gestione Bellissima l'unione che si è creata E si è vista da tante... Da tante cose Grande Francesco Acerbi Un'ultima cosa la voglio dire Ed è ancora sul Milan La gestione della comunicazione E di come il Milan si è esposto Anche con la questione della musica tecno e altre cose Anche nella persona di Adli Nella partita è anche fuori dalla partita E oltre agli atteggiamenti dei calciatori Chiaramente fuori controllo Che non capivano secondo me Dove vai? Dove vai? No, 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 no Via, 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 via Non mangiare le cacche Non mangiare le cacche Ecco a proposito No No, no, vai, 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 vai No, no, vai, 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 vai E... Boh, brutto Brutto Non mi è piaciuto Veramente brutto Veramente triste E... Una società come il Milan Probabilmente merita altro Io mi auguro che... Mi auguro per loro E mi auguro anche per la competitività Del calcio italiano fuori Che... Che succeda qualcosa di migliore Poi chiaro Come avversari sportivi Come... Uno... Cioè a me può anche stare bene Però... Veramente un brutto outlook Brutto brutto panorama Brutto In tutti i sensi E... Ci aggiorniamo domani O dopo domani Vediamo quando ho un secondo di tempo E... Segni di vita Segni di vita Vi abbraccio Godiamoci Godiamoci queste partite E... Tra l'altro Faremo anche un video su Il calcio italiano In Europa Pazzesco Vabbè Sono buoni